l'abbiamo fatta ogni tanto dai numeri proprio niente non ci siamo ma che sì ci siamo ci sono se adesso aspettiamo un po fammi togliere quell'altro perché magari le amiche sono di là allora l'angolo di crisi questo qui si tocca di niente questo qui si toglie ma porca miseria ma perché mi deve fare i numeri del genere elimina elimina io sono di qua eccoci buonasera amorose buonasera abbiate pazienza ma ogni tanto dai numeri che ci devo fare purtroppo non so che farci quando decide così e decide così buonasera buonasera tutto bene amorose tutto bene tutto bene sì sì ci sono ci sono non lo so mi continuava a girare dire che non era possibile andare in diretta ho detto ma perché buonasera amorosissime allora stasera andiamo a realizzare un altro punto all'uncinetto tunisino visto che vi piace ve ne faccio vedere tanti e questo è un altro punto bellissimo per realizzare maglie per realizzare stole infatti ci voglio fare una stola io la stola la farò ve lo faccio vedere con questo filato stasera però perché questo quello che io userò per realizzare la stola è questo e siccome non è il filato più facile più facile da lavorare in diretta ho preferito evitare nel senso siccome ha questi pezzettini non vorrei che si incastrasse e allora prima lo devo provare altrimenti la farò con questo con il donni il donni color rosa pesca qui lo chiama rosa pelle però è un rosa pesca molto molto bello è un bellissimo un bellissimo cotone e soprattutto com'è vediamo se indovinate è morbido morbido buonasera davvero a tutti mi auguro che il vostro weekend sia stato fruttuoso in termini di riposo il mio sia abbastanza morbido morbido bravissime vedete che è ciao paola ciao lucia ciao a tutte ciao a tutte amorose allora ero un pochino titubante perché volevo farvene vedere due il primo che volevo farvi vedere questo siccome è bellissimo anche questo qua è anche questo è stupendo sempre fatto col tunisino però siccome è leggermente complicato ma non non è difficile però è complicato farvi vedere bene come prendere il punto quindi questo o lo facciamo domani sera perché devo trovare un filato che io avevo iniziato a farlo con questo qua per farvelo vedere però non si vedeva bene il punto dove andare ad agganciarci per realizzare questa sorta di trecciolina vedete che forma questa sorta di mezza treccia molto bello questo punto allora ho optato per questo che è più semplice da vedere ed è molto bello e con il quale appunto ci si possono realizzare un sacco questo qui è già più compatto come punto ci si possono sempre realizzare anche le maglie però è bello spesso come punto questo qui invece è un punto leggero quindi è un punto con il quale ci si possono veramente realizzare anche top maglie stole le sciarpine tutto quello che volete ciao claudia saluti dalla capolista sì io non commento perché noi andiamo in b quest'anno siamo ultimi e allora andiamo a realizzare il nostro punto allora partiamo con una base di punto tunisi quindi una riga di carico e una riga di scarico e nuovamente una riga di carico va bene le volete rivederle perché queste qui questa è la proprio la base del del punto tunisi proprio la base 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 e sabrina guarda devi provare perché veramente molto carino questo è un punto veramente un attrezzino con il quale si possono fare punti molto belli è divertente da lavorare ed è un qualcosa che è diverso dall'uncinetto dei ferri e quando uno si stanca di lavorare uno due cose c'ho la terza la quarta no la signora in cielo stefania io sono cristiana chris io vorrei imparare questa meravigliosa tecnica che numero dovrei comprare allora io ti consiglio di utilizzare di iniziare con un quattro quattro e mezzo cinque è un filato adeguato perché se inizi con filati troppo sottili rischi rischi che poi lo trovi difficile invece con un filato anche il doni va benissimo da lavorare appunto con con un cinetto tunisino quattro e mezzo cinque io lo sto lavorando col sei perché lo voglio morbido morbido allora adesso vi faccio vedere brevemente molto ma molto brevemente come realizzare la prima riga sì 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 simona certo che ve lo faccio ve la faccio con l'altro filato col genesis è uguale questo è un uncinetto tesoro claudio è un uncinetto questo quindi poi dovete provare e viene morbido morbido brava silvana vedi che ormai hai capito questo è un uncinetto tunisino tesoro allora andiamo a lavorare andando a fare una catenella iniziale che deve essere un multiplo di tre maglie più due quindi andiamo a fare una catenella che sia appunto questo multiplo a seconda di quello che volete realizzare certo Sabrina c'è proprio la scuola di uncinetto tunisino tutti tutti i filati per l'uncinetto tunisino a seconda di quello che devi fare amorosa usi il filato aspetta che ti metto la playlist se la trovo alla prima alla prima sarà dura la devo cercare aspetta perché non mi dà le playlist voglio tutte le playlist sì voglio tutte le playlist eccole qua adesso te la trovo e dove c'è la c'è la scuola di di ci sono i punti base ci sono anche dei bel già dei lavori fatti con l'uncinetto tunisino eccola qua qui hai la playlist no ma non così visualizza la playlist completa grazie caro è veramente gentile ma quanto sei carino copia ecco qua qui vi metto nella nei messaggi nei commenti non nei commenti se sono tutorial vecchi che non si vede no invece si vede che senso non si vedono ma non si vede niente no si vede come non si vede poi se non si vede me lo dite se c'è qualcuno che non vedete me lo dite ma mi sembra che tutti quelli che ci sono sono punti sono fatti sono non sono nuovissimi ma sono abbastanza recenti quindi allora e mo che ci mettiamo però a fare il filo al pc in che senso che è successo sì il doni è perfetto per il tunisino allora dipende da quello che volete fare se volete fare la copertina utilizzate un filato più spesso con un uncinetto più grande se volete fare la maglia per esempio questo qui è perfetto il doni è perfetto potete utilizzare il rida ecco una cosa che vi consiglio utilizzare magari filati come il doni che abbiano una discreta torsione soprattutto se iniziate perché se no rischiate che per quando lavorate se non state attenti non andate piano 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 vi si incastra l'uncinetto nei fili che ne so se utilizzate per esempio il frida è un che non è esageratamente ritorto che che è successo il filo al pc ma che succede aspettate che io vedo non lo vedo qualcuno che ho bannato sicuramente c'è qualcuno che sta rompendo ragazze io non lo vedo io non lo vedo proprio e marta se tu guardi quelli vecchissimi ma e le ho rifatti e tanti a mi rifacevi il verso perdona mi tesoro pensavo che c'era qualcuno che ti rompeva l'anima allora quindi vi dicevo voi andate a realizzare la vostra catenella iniziale che deve essere un multiplo di tre maglie più due e poi andate a lavorare una catenella in base a quante maglie volete se volete fare la stola la maglia poi ne fate un'aggiuntiva entrate in ogni punto e andate a tirare sul filo così entrate nel punto agganciate il filo e lo lasciate sull'uncinetto entrate nella catenella agganciate il filo e la lasciate sull'uncinetto io stasera ce l'ha con me sto coso entrate nel punto agganciate il filo e lasciate sull'uncinetto e procedete sino a completare tutti i punti che avete messo nella vostra catenella va bene no figurati marta e i primi tutorial dovete sapere che io li filmavo e l'ho detto un miliardo di volte per con un telefonino quando iniziato a fare i tutorial ha iniziato con un telefonino quindi non riuscivo a vedermi adesso mi vedo dallo schermo del computer ed è un'altra roba ora difficilmente esco dall'inquadratura ogni tanto mi succede quando mi quando mi fisso a fare un lavoro però difficilmente adesso allora una volta che avete tirato su tutti i punti andate a scaricarli la riga di uncinetto tunisino si compone di una riga di carico che è quella che abbiamo fatto adesso una riga di scarico la riga di scarico si fa così si aggancia il filo si getta il filo sull'uncinetto e si passa solo la prima asola che abbiamo ovviamente sull'uncinetto le altre tutte due a due quindi caricate il filo sull'uncinetto e passate due asole caricate il filo sull'uncinetto passate due asole e procedete in questo modo sino al termine e questi sono queste sono le due le due righe del punto tunisi classico va bene per realizzare questo progetto dobbiamo farne esattamente due così una riga di carico e una riga di scarico che sono queste due le prime due che avete qui va bene buonasera antonella già tiziana adesso andiamo a rifarne una di carico quindi entra la prima la lasciamo la prima solina vedete che qui abbiamo adesso tante asoline in verticale va bene questi sono i punti che noi dobbiamo andare a prendere per lavorare il nostro punto il primo lo abbiamo già sull'uncinetto quindi la prima la saltiamo entriamo in tutte le asole lateralmente così agganciamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto aggancio il filo lo lascio sull'uncinetto e procedo in questo modo sino a completarli tutti adesso vi faccio vedere anche come riprendere l'ultimo è molto importante una cosa ma stasera non lo so che fa anche la mia connessione stasera stava facendo i balletti l'importante che voi vediate bene se se non vedo bene io altro un altro paio di maniche l'ultimo punto che è questo questa solina qua entriamo però prendiamo tutte e due le asole vedete le due asole finali del punto le prendiamo tutte e due e agganciamo il filo in questo modo si forma un bordino laterale gradevole va bene e queste qui sono le righe che dobbiamo fare inizialmente adesso facciamo conto che stiamo iniziando quindi ok io ho fatto la mia riga di ricarico adesso vado a realizzare la prima riga del punto effettiva ok quindi vado a scaricarmi tutti i punti si possono usare due incinetti tunesini come feri da maglia no tesoro non puoi te lo dico già no perché ci provai tanti anni fa a vedere se potevo fare qualcosa no perché perché non riesci tesoro è un problema allora il numero di uncinetto tunisino deve essere di due numeri più grande rispetto al numero richiesto dall'uncinetto tradizionale il don io di solito lo lavoro con l'uncinetto numero 4 e invece questo qui è il 6 perché se no non rimane morbido perché il punto tunisi la lavorazione al tunisino risulta molto molto più compatta rispetto a quella dell'uncinetto normale va bene e quindi conviene conviene sempre prendere un uncinetto di due numeri più grande va bene adesso andiamo a scaricare quindi il nostro lavoro quindi la prima da sola e le altre tutte due a due così 222 io lavoro già con questo filo si vede abbastanza vero ditemi voi si vede abbastanza se no usiamo quel filo la è che più grosso se voi mi dite che lo vedete bene continuo con questo due punti due punti due punti una e due asole io dico punti o asole quindi no di solito dico asole anche perché sono più asole che punti si vede bene ok l'importante è quello no perché inutile fare un tutorial infatti adesso piano piano voglio farli rifarli tutti quei tutorial dove esco dall'inquadratura perché è un peccato perché magari sono dei lavori carini soprattutto quelli della scuola di uncinetto di ferri li devo rifare piano piano tutti parte che in ogni tutorial io comunque vi faccio vedere i punti e che faccio li faccio magari un pochettino più veloci però li faccio vedere sempre allora una volta che abbiamo terminato la riga di scarico procediamo con andare a ricaricare i nostri punti e andiamo a ricaricarli in questo modo il primo ce l'abbiamo facciamo una catenella sopra il primo questa è la prima riga del punto effettivo è carico e scarico di punti esatto pasqualina per una riga completa e riga di carico e riga di scarico e quella la riga completa nel primo nella prima asola facciamo una catenella adesso andiamo a riprendere così come vi ho fatto vedere prima i punti entrando lateralmente nella nella in questa solina che abbiamo verticale agganciamo il filo e facciamo una catenella punto successivo lateralmente aggancio tiro su e faccio una catenella quindi lateralmente aggancio e catenella ditemi se dovrebbe essere comprensibile è questo aggancio il filo lateralmente e faccio la catenella qui ho l'asolina entro lateralmente in questa solina aggancio il filo lo faccio passare attraverso e poi realizzo una catenella va bene ditemi voi se l'avete capito io io intanto continuo vi leggo se mi capite che è comprensibile proseguo senza spiegazione nel senso vi leggo magari vi rispondo ciao daniela così entrate fate una catenella e questo è molto molto carino come come punto ok quindi lateralmente entrate e realizzate la catenella e questo lo fate sino al termine della riga ovviamente ma questo è abbastanza semplice come punto e corre anche abbastanza veloce perché uno dei diciamo difetti tra virgolette del punto tunisi quello classico e che è un punto molto compatto molto caldo quindi perfetto per le coperte perfetto per le giacche se utilizzate uncinetto adeguato va bene anche per una maglia invernale anche da donna eh io ci ho fatto un giubbotto ci ho fatto una maglia ci ho fatto un coprispalle ce l'avete tutti nella nella playlist del tunisino eh quindi nella nella prima riga di ricarico diciamo del punto andiamo a realizzare un punto e una catenella cioè tiriamo sul punto e su questo punto realizziamo la catenella sì sì fania assolutamente questo è adattissimo per fare le maglie le maglie le stole tutto ciò che che deve rimanere leggero assolutamente sì sì infatti io ci faccio una stola con questo poi quello che se volete vedere quello di prima devo trovare il filato giusto però per farvelo per farvelo vedere perché con quello lì non si capiva molto e con questo ancora meno allora arriviamo in fondo realizziamo l'ultimo punto e l'ultima catenella e poi nuovamente andiamo a prendere entrambe le costine del punto questo è importante cioè entrate dentro il punto prendete tutte e due le costine aiutatevi anche con un altro uncinetto se volete all'inizio con con le dita così così prendete tutte e due le asole io adesso l'ho fatto strettino quello di sotto e tirate su e anche in questo caso facciamo una catenella va bene amorosa guarda prendilo perché veramente carino ci si fanno un sacco di cose col tunisino veramente se poi lo 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 cioè vi piace io vi faccio un sacco di tutorial anche con questo è perché rispetto ai ferri che ultimamente riesco a usare poco perché mi fa veramente male la la spalla e allora invece col tunisino l'uncinetto normale riesco bene ok prova sprendilo tanto dalla tessila tesoro costano questi qui dritti soprattutto se vuoi imparare che ne prendi uno di questi da prezzo mi vedi bene anche dallo smartphone perfetto ilaria grazie adesso andiamo a realizzare nuovamente una riga di scarico quindi il primo da solo tranquilla c'è proprio il primo da solo gli altri tutti due a due proprio con comodo la riga di scarico è la stessa che vi ho fatto vedere prima questa poi ce ne sarà un'altra che avrà una variante però ve l'ho detto questo è abbastanza divertente come ed è anche più rilassante perché se state se non c'è se state certo scialli bactus quello che volete tesoro poi la stola nient'altro è che non scialle rettangolare quindi assolutamente sì certo ci potete fare quello che volete quello che più vi piace anche la coperta con l'uncinetto tunisino con l'uncinetto quello col cavetto ci potete fare anche la coperta d'inverno che così vi cade sulle sulle gambine vi scalda anche è molto rilassante molto molto perché non dovete contare sempre a tutti a tutti i punti se mio figlio si decide dovrei fare un ordine ecco bravo fallo decidere è bello il clash sì solo che adesso i filati invernali basta ho deciso che mo basta e all'altra sera avevo una maglia fatta col clash addosso quella nera coi punti di rosa adesso nella diciamo nella seconda parte nella seconda riga del punto che la prima sono quella di carica e quella di scarico adesso facciamo nuovamente una riga di carico però la facciamo in maniera un po diversa nel primo punto andiamo a realizzare nuovamente una catenella adesso andiamo a prendere saltando la prima il primo punto verticale ne prendiamo tre tutti insieme quindi entriamo nel primo buongiorno entriamo nel secondo ed entriamo nel terzo va bene agganciamo il filo così tiriamo sull'asola e poi chiudiamo una catenella e ripetiamo in questo modo sino al termine va bene quindi 1 2 e 3 punti verticali aggancio il filo lo faccio passare attraverso tutti e tre e poi faccio una catenella 3 punti 1 2 3 punti verticali aggancio il filo e chiudo la catenella lara chiudimi la porta se non entra il terrorista 1 punti verticali aggancio e chiudo la catenella 1 2 3 punti verticali aggancio faccio passare attraverso tutti e tre e poi chiudo la catenella buonasera rosa e nuovamente 3 punti verticali 1 2 3 aggancio il filo lo faccio passare chiudo la catenella e procedo così sino al termine di 3 e catenella 1 2 3 e catenella 1 2 3 catenella mi raccomando prendete l'uncinetto adeguato al filo perché altrimenti quando dovete fare questi punti un po un po morbidi e vi rimane troppo sia un terrorista no ma non sto scherzando è veramente un teppista quel gatto e stanotte mi ha fatto prendere un accidenti non so dove l'ha chiappata che ha trovato le cuffiette di lara e le ha e le portava in giro per tutta la casa solo che quelle cuffiette quando sono staccate dal dal supportino fanno luce io apro gli occhi mi sembrava di avere gli ufo in stanza vedo sta luce rossa e blu che girottava per la stanza ed era lui che aveva acchiappato le cuffiette quelle bluetooth e ci giocava dentro la camera infatti mi chiudo adesso la sera in camera perché se no una volta che abbiamo chiuso l'ultimo gruppetto di tre entriamo sempre nell'ultimo punto prendendo le due asoline ecco adesso dovrei averlo lavorato un po più morbido tutte e due le asole così aggancio e chiudo una catenella va bene si gli ufo in stanza mi sembrava da avere la lana morbida morbida esatto adesso andiamo a scaricare quindi scarichiamo il primo punto da solo come al solito ovviamente e poi facciamo una catenella adesso scarichiamo due punti e di catenelle ne facciamo due una e due scarico due c'è chiudo due e faccio due catenelle 2 catenelle 2 catenelle 2 catenelle 2 catenelle 2 catenelle e procedo ovviamente sino al termine quindi due catenelle 2 catenelle 2 catenelle no ragazze guardate mamma mi fa prendere dei colpi tra lui e mio marito l'altro giorno ha comprato un attrezzo per un profumatore no per il bagno e che ha comprato uno di questi elettrici tanto vi dico come chiudere il giro prima poi vi racconto quindi chiudete l'ultimo adesso tra quando avete chiuso la penultima avete le ultime due asole sull'uncinetto di catenelle ne chiudete una sola e poi chiudete le ultime due asole va bene niente cosa è successo compra sto coso ma io ma io non non di quelli che si attivano al movimento ma che ne sapevo io elena e ogni tot di minuti spruzza da solo sto coso io vado in bagno di notte tranquilla tranquilla silenzio totale di notte a un certo punto sento mi si è gelato il sangue ma sapete che cosa non lì è gelato me lo potevi anche dire stavo morendo da ridere fra gatti profumini c'erano tutti con me insomma allora no veramente ragazzi se io veramente no immaginatevi il silenzio non sapendo cioè se ora lo so se lo sento non mi spavento più ma non sapendolo se ero seduta sul water normalmente quando uno va in bagno a un certo punto nel silenzio totale sento mi si è gelato il sangue allora adesso andiamo a realizzare praticamente l'ultima riga del punto dopo questo dopo queste bellissime cose il primo ce l'abbiamo già sull'uncinetto e adesso andiamo a fare nuovamente una catenella adesso entriamo all'interno della di quest'asola di questa asola chiamiamola asola non mi viene il termine di questo archetto di una catenella entriamo a dentro e cosa ho fatto lì per lì e no sta stampando se sentite rumore e sia un diverso è proprio un divertimento patrizia è proprio il gatto è il profumino del bagno si esatto per fortuna ero già in bagno entriamo all'interno appunto di questo di questo archetto agganciamo il filo e poi facciamo una catenella poi lo facciamo nell'asolina del punto quindi qui abbiamo l'asola entriamo e nuovamente agganciamo il film e facciamo la catenella adesso qui abbiamo l'archetto di due e ne facciamo due quindi entriamo agganciamo il filo catenella rientriamo nello stesso archetto agganciamo il filo e nuovamente catenella adesso nel punto aggancio e faccio la catenella ora siamo nell'archetto di due entro una volta catenella entro due volte catenella entro nel punto aggancio faccio passare l'asola e faccio la catenella sino ragazzi guardate aggancio catenella due volte all'interno dell'archetto e una volta nel punto e faccio sempre la catenella entro nell'archetto gancio e chiudo la catenella per due volte e poi lo faccio all'interno all'interno prendendo trasversalmente l'asola faccio passare il filo e faccio la catenella è già uscita sta preparando le cose per domani per scuola rosa e adesso se rientratela te la ti faccio rispondere quindi dentro gli archetti entrate agganciate il filo e fate la catenella entrate agganciate il filo lo tirate su fate la catenella la stessa cosa fate nel punto orizzontalmente entrate agganciate e fate la catenella così in temi comincerà a preoccupare il gatto l'ha voluto tua figlia il profumo l'ha comprato sì sì infatti sì 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 si sono qualizzati per farmi prendere qualche accidente ai ai ma quanto riso moro quando glielo raccontato perché poi lì ne ho dite di ogni ho detto ma me lo potevi anche dire che quell'accidente di coso si faceva gli affari suoi e chiacchierava da solo di notte e cominciata a ridere sì 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 avete capito ve lo devo rispiegare si vabbè ve lo posso anche farvi vedere poi se volete mi si era incastrato il filo allora 1 e 2 all'interno del punto gancio e catenella 1 2 e catenella nell'ultimo archetto così come abbiamo fatto prima perché tanto qui abbiamo solo una catenella un archetto di una catenella ne facciamo solo uno e poi chiudiamo come tutte le righe con l'ultimo punto prendendo tutte e due le asoline e poi facciamo la catenella anche qui praticamente i passaggi del punto sono questi e adesso ricominciamo da capo va bene quindi adesso ricominciamo con la riga di scarico normale quindi uno da solo e tutti due a due sino al termine questa è la più tranquilla la più tranquilla lara scusate amore mauro non mi considerano dice a lara se cortesemente viene un attimo è pazzesca sta casa da una stanza all'altra non ci si sente veramente me lo fai in favore amore me lo riempiono la bottiglia d'acqua o perlomeno mi porti un bicchiere d'acqua che mi sto prosciugando ma se uno sbaglio torni indietro di una riga tesoro purtroppo col tunisino è un po' un problema rimediare fortunatamente le righe sono separate quindi non è che devi fare tanto te ne accorgi subito l'importante una cosa quando avete finito la riga di carico contate i punti se sono punti complessi come può essere questo se punto tunisi lo vedete subito subito se avete sbagliato lo vedete proprio molto molto velocemente esiste un modo per scrivere i punti allora ci sono gli schemi del punto tunisi però non sono facilissimi da leggere ve li devo fare ve li devo fare ve lo faccio dai in settimana ve lo faccio il ma è meglio scriverli perché a meno che non siate proprio brave 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 se io vi faccio lo schema non c'è niente a che vedere lo schema del dell'uncinetto tunisino con con quelli dell'uncinetto normale quindi sì no ci sono proprio i simboli preposti però no tesoro questo qui è un punto che non si arrotola qui non ho fatto niente ho lavorato direttamente il punto tunisi ma perché questo qui un punto morbido è solo il punto tunisi che si arrotola gli altri difficile che si arrotolino quindi adesso una volta che abbiamo fatto la riga di scarico rifacciamo nuovamente la riga di carico e la facciamo catenella vi ricordate diciamo catenella nel primo punto poi saltiamo la prima asola perché ce l'abbiamo già sull'uncinetto entriamo nel punto successivo passiamo e catenella punto successivo passiamo a catenella sino al termine della riga grazie tesoro punto successivo catenella entrate agganciate il filo e fate la catenella vi perché sono proprio simboli completamente differenti sia da dall'uncinetto che dai ferri quindi vi devo fare come feci per per i ferri per l'uncinetto per gli schemi di uncinetto perché quelli dei ferri poi fondamentalmente sono più semplici sono meno tra l'altro sono di meno quelli per i ferri quando conosci quelli base sono più semplici da leggere quelli all'uncinetto quelli all'uncinetto la connessione sfarfalla che è una meraviglia ciao tiziana ma stasera sì stasera è una rottura stasera rompe proprio no io vedo bene adesso ma non so perché ogni tanto dai ciocca perché c'è vento qua dai numeri perché c'è vento e quando c'è vento purtroppo lo fa non so non so come mai ma no vi faccio vedere come si leggono però sono tanti anche i simboli dell'uncinetto tunisino ho capito quindi io ve li faccio vedere per carità ve li faccio come ho fatto per l'uncinetto tradizionale vi faccio vedere come si leggono adesso devo trovare un un quaderno un giornale dove ci sono da qualche parte ce lo dovrei anche avere ma guardo magari guardo in rete se c'è qualcosa dovrebbero esserci e comunque anche in rete ragazze se lo trovo ve lo ve lo scarico cioè me lo scarico vi dico dove dove prenderlo e così lo guardiamo insieme magari eh bello il punto della savanna vero anche quello lì è molto bello come come punto ma poi anche questo è bello questo è anche facile una volta che avete capito la ripetizione delle righe ma è veramente facile perché sono sono praticamente tutte catenelle non è niente di di che anche in questo caso arriviamo all'ultimo agganciamo le ultime due io mi devo sempre ricordare di far morbido il primo e poi facciamo la catenella adesso andiamo a scaricare normalmente quindi il primo da solo e gli altri tutti due a due ma se sai fare le tre c'è se già va un punto ma vedi rosa io non penso che ci sia che sia più bello il lavoro ai ferri rispetto a quello all'uncinetto che ci sono dei lavori all'uncinetto dei pizzi all'uncinetto che sono la fine del mondo io trovo che i lavori i lavori, le maglie non i lavori, le maglie fatte ai ferri abbiano una vestibilità migliore per quanto mi riguarda però se trovi il punto giusto anche l'uncinetto adesso sto facendo le maglie che sto facendo ultimamente sono molto cioè danno molta vestibilità l'unica cosa è trovare l'uncinetto è il punto giusto per mantenere la morbidezza del filato cosa che con i ferri questo non accade perché con i ferri ti può venire un punto più fitto ma la morbidezza non va a perdersi invece con l'uncinetto purtroppo sì ma ci sono dei lavori all'uncinetto che sono spettacolari e tra l'altro con l'uncinetto si possono fare tutti i lavori con i ferri no sì sì l'abbigliamento sì per l'abbigliamento però per esempio anche per l'abbigliamento le giacche preferisco fare all'uncinetto una giacca veste meglio fatta all'uncinetto perché con l'uncinetto riesci a dargli una compattezza che con i ferri non riesci capito? e dipende dipende sempre dal dal tipo di lavoro adesso andiamo nuovamente a fare il giochino di prima quindi catenella nel primo punto lo lasciamo sull'uncinetto e adesso nuovamente tre per volta uno due tre insieme aggancio faccio passare e faccio la catenella e nuovamente uno due tre insieme e catenella e ripeto uno due tre insieme e catenella uno due tre aggancio e catenella uno due tre e catenella e io devo riprendere il filet voglio no 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 io filet basta voi siete veramente fantastiche fate dei lavori stupendi ma io tutta roba moderna no no a parte che in casa mia centrini durano da Natale a Santo Stefano ora poi col gatto mamma prima c'era mia figlia ma c'è pure il gatto sono io filet abbiamo già dato abbiamo dato tanto non ne voglio più vedere per un bel pezzo i punti traforati in cosa all'uncinetto ma basta provare tesoro basta basta mettersi lì e provare prendi un tutorial ti metti lì e provi ne scegli uno facile ne scegli uno un pochettino più semplice e provi fino a che non ti riesce poi una volta che capisci il meccanismo chiudiamo con le ultime tre asoline catenella ultimo punto prendo le due asole aggancio e faccio la catenella e adesso vado a chiudere la prima sola poi faccio una catenella e poi tutte due a due faccio due e due catenelle 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 due due catenelle e vado così sino alla fine sono innamorata di un tutorial antico lo challe bactus variazione del punto ragno mi puoi suggerire un filato adatto ma lo vuoi fare estivo o o invernale perché se lo vuoi fare invernale è un filato che abbia le sfumature sì ho capito quale mi ricordo quale qual è che abbia le sfumature come quello lì chiudiamo con una sola catenella e le ultime due asole e amorosa quello lì lo fai con tutto con qualsiasi filato che ti piace che è sfumato amorosa il per esempio il chak batik va molto bene per quello io mi sto cristando sempre la sete è fantastica la prendo subito unghie fatto anelli fatto uncinetto presi i fari economici svaliggiato tessi oh dio è fantastico era un tutorial sì 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 ma me lo ricordo Anna qual è qual è lo chiale qualsiasi filato sfumato amorosa va bene va bene nel chak batik se lo vuoi fare per esempio in in cotone ma va bene anche uno che non è sfumato qualsiasi qualsiasi se lo vuoi più spesso prendi un filato un pochino più grosso per esempio io se lo dovesse rifare lo rifarei con il chak batik invernale se lo volessi fare estivo lo farei per esempio col doni sfumato ci viene bellissimo Rosa io cominciai con una maglia traforata semplicissima era dieci giri a maglia rasata e un giro traforata era simpaticissima poi pian piano ho cominciato con le cose più complesse anche il super cape Anna assolutamente sì perfetto il super cape sì allora prossimo questo lo faccio da te che da te non si trova non si trova più niente allora adesso andiamo a realizzare praticamente l'ultimo giro e poi si ricomincia con la riga di carico quella di scarico quindi il primo lo abbiamo già sull'uncinetto facciamo la nostra catenellina poi entriamo nell'archettino di una maglia agganciamo il filo e facciamo la catenella e lo facciamo anche nel punto qui abbiamo solo una catenella un archetto di una catenella quindi ne facciamo solo ne riprendiamo solo uno dove abbiamo l'archetto di due catenelle lo facciamo due volte quindi entro aggancio e lavoro la catenella e poi lo faccio nel punto aggancio e faccio la catenella poi entro catenella entro aggancio catenella e poi lo faccio nel punto allora ogni ogni attrezzetto c'ha il suo perché a me per esempio il tunisino piace proprio tanto mi diverto a lavorarlo il tunisino mi piace tanto la forcella per esempio a me piace da matti la lavorazione a forcella però visto che attecchisce poco nel senso sono quei lavori che che ti devono appassionare infatti non è che ho fatto tanti tutorial perché ho visto che non è che sono tanto seguiti significa che l'interesse è basso ed è inutile fare dei tutorial per cose che poi magari non vi interessano perché anche con la forcella vengono dei bei lavori è un pochino più complicata forse da assemblare la lavorazione a forcella però neanche più di tanto insomma così entrate in ognuno degli archettini di due maglie fate e riprendete due punti così no uno per volta uno e due lateralmente e poi nell'archetto nel punto catenella e poi nell'archettino uno e due nel punto catenella nell'ultimo archetto di una maglia una volta sola e catenella e poi nell'ultima maglia di base prendendo tutte e due le asoline faccio passare e faccio la catenella ecco praticamente il punto è tutto qua ed è molto carino per una sciarpina questo lo potete fare utilizzare per una sciarpa anche invernale io ora ve l'ho lavorato come un cotone ma sì ho fatto il poncetto sì è un panna sì molto carino grazie farò così perché ripeto con l'uncinetto faccio di tutto coperte scialli borsi amigrumi ma no voglio imparare i ferri è rosa sono sono diversi sono lavorazioni differenti io li amo alla follia i ferri per le maglie per le maglie mi piacciono da morire per le maglie i ferri però se devo fare qualcos'altro le maglie i cardigan morbidi gli spolverini con i ferri sono meravigliosi perché cadono addosso in maniera molto più fluente rispetto che con la lavorazione all'uncinetto però ci sono top per esempio invece i top il top io se devo farlo lo faccio all'uncinetto perché il top rimane più compatto con l'uncinetto quindi fa risaltare meglio la figura ciao Teresa ti ho conosciuto da poco Chris e mi sto appassionando delle tue creazioni molto originali e per me nuove soprattutto ora con il tunisino aspetto la maglia con quel meraviglioso punto e quella la facciamo Teresa e grazie a un bacione e allora benvenuta nella nostra banda di matti perché poi siamo un po' una banda di matti dicevo la faremo la settimana prossima mi sa sì la settimana prossima perché adesso finisco la maglia che ho da fare avrei da fare anche un altro lavorino però la vedo insomma comunque la facciamo sì sì quello che abbiamo fatto mercoledì mi sembra che bello bello ma si può fare anche una maglia estiva certo sì sì Pasqualina certo che ci puoi fare la maglia assolutamente sì per una storia estiva elegante e leggera leggera col tunisino che punto consigli quello con il quale faccio la maglia per la prossima settimana ovviamente è quello che ho fatto l'altra sera ma anche con questo tesoro se no c'è c'è quello della savanna della maglia savanna che ho fatto poi c'è qualcun altro ve l'ho fatto di punto nella play adesso non lo so però mi sembra adesso vado a ritrovarmi la playlist torno indietro ma quanto gacchierate sono cattivissima sto scherzando ovviamente allora ho fatto di punti e c'è dei diversi c'è il punto losanghe quello le losanghine il punto rete carino anche quello poi c'è il punto lisca che sarebbe praticamente il punto la variante all'uncinetto tunisino del punto oddio pavone aspettate lo voglio cercare perché sennò vi divido tutta la poi c'è il punto rete gli altri sono tutti punti fitti il punto obliquo il punto ventaglietti ce ne sono tanti di punti molto molto aperti con i quali si può poi c'è il punto riso però quello è molto fitto invece c'è il punto chevron perché il punto lisca e il punto chevron sono diversi poi c'è il punto losang e quello i rombetti andate nella playlist e lì li vedete tutti copia ce ne sono diversi pensavo non avendo fatti meno comunque ve ne faccio ce ne sono tanti di punti con l'uncinetto tunisino ce ne sono diversi 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 allora una storia estiva eh sì sì quello questo quello che vi ho fatto l'altra sera comunque vai a dare un'occhiata a rosaria nella playlist ne vedi diversi comunque se vi piace visto che sono comunque dei punti che io vi posso far vedere anche durante le dirette possiamo fare un punto a settimana due punti a settimana ciao tesoro tra cinque minuti sparisce tutto un abbraccio angelo un bacione tesoro una rocca di hendy con l'uncinetto tunisino numero quattro tre e mezzo quattro perché l'hendy lo lavori con un e mezzo due quindi sì tre e mezzo prova con il tre e mezzo se poi vedi che ti rimane troppo rigida prova con il quattro sì con quello lì viene bellissimo con il punto pizzo che vi ho fatto vedere l'altra sera mercoledì sera è molto bello non so neanche dove l'ho tolto perché l'ho disfatto sì perché devo farci la maglia quindi devo ricominciare da capo e quello è bello quello è bello perché è molto pizzo come punto ed è divertente tu ti monti prendi hai gli uncinetti quelli con il filo lungo con i connettori se no lo fai in verticale e poi lo puoi fare anche con l'uncinetto quello corto se lo fai in verticale tieni presente qua ci sono 35 punti e per esempio per questo se lo fai col doni per esempio no hai detto che hai lendi però con 35 punti ci sono 22 cm e con lendi saranno un'ottantina di punti ma ti ci stanno ti ci stanno tutti eh perché guarda è un punto molto leggero questo quindi si ammucchia bene ecco ti ci stanno ti ci stanno se hai soltanto questo se poi vedete che mi piace la lavorazione possiamo fare anche che ne so tipo le copertine tipo qui ci viene bello con l'uncinetto c'è il punto antrelac che è un punto tutto a quadrotti che a me non fa impazzire però mi piace a molti avete anche quello e nel canale e se no ci si possono fare veramente un sacco di cose io ve l'ho detto se vi piace si 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 possono vedere altri altri punti ce ne sono tanti punti quindi e poi magari con un tutorial però non con una diretta vi faccio la la spiegazione dei punti dei punti devo trovare qualcosa dove ci siano tutti i punti guardo guardo su internet magari forse in inglese ci sono che in italiano non è che abbia mai visto molto cioè di punti di schemi va bene amorosi allora io vi auguro una serena notte vi si chiudono gli occhi io no io devo finire la maglina con che ho fatto una cretinata non sapete che quando uno è stanco sto lavorando la maglia quella con il punto lo zanga è l'uncinetto che tra l'altro viene morbidissima quello che vi dicevo prima se trovate l'uncinetto adatto e ho dovuto disfarla perché nella stanchezza ho preso la lavorazione e ho lavorato nel lato invece di lavorare in lunghezza ero talmente cotta che ogni tanto le mie le faccio e quindi ho lavorato ma avevo lavorato anche un bel pezzo mi è venuto un nervoso meno male che non ho il cammino io ho altre almeno due ore di ferro da stiro goodnight Tula thank you too notte ragazze buonanotte ci vediamo domani con qualcos'altro adesso qualcosa mi studio magari domani l'uncinetto tunisino lo lasciamo tranquillo lo lasciamo stare e magari vediamo di fare qualcos'altro va bene vi abbraccio vi lovo vi amoro vi ringrazio per la compagnia ciao morosi buonanotte notte notte